Dimenticavo, devo attaccarti l'ombra, basteranno solamente due punti, non ti farò male. No, no, non preoccuparti, toglievo, non ho paura. Sì. Peter, ma allora sei anche un bifone. Sai, sono contenta di aversi conosciuto. Se ti vedessero già nel Michael, non ci crederemmo. Come diciamo? Io mi chiamo Wendy, Moira, Angela, Darlene. L'ho toccata, come va? Guarda qui, sono stato proprio bravo. Sì, tu sei stato bravo, io non ho fatto niente, vero? Sai che sono persi? Cosa, Peter? Che una ragazza vale più di dieci ragazzi. Sono persi veramente? Ma sì, certo. Che bello, ma è una cosa molto carina da parte tua. Se vuoi ti posso dare un bacio. Grazie. Peter, ma... Ma tu non sai che cos'è un bacio? Lo saprò quando me l'avrai dato. Ora devo darti un bacio. Se vuoi. Sì, hehehe. Ehi, hehehe. Un bacio, grazie, lo porterò sempre con me, sai Peter, io sono contenta di averti conosciuto questo tempo, perché altrimenti non l'avrei mai più fatto, perché da domani dovrò crescere, crescere, dovrò crescere, dovrò prendere spazio e non potrò neanche più raccontare le pavole, no no, non mi vai, guarda, vieni con me, no, dove Peter? All'isola che ne c'è, all'isola che ne c'è? Sì, loro cresce la mamma, no, ma cosa dirà la mia mamma? La mamma? Ma che cos'è la mamma? Beh, la mamma è una persona che ti vuole bene, che ti racconta le pavole, che ti distante di bello, è bello, è bello, è bello, tu sarai la vostra mamma, no, Peter, sarebbe bello, ma non posso. Non è bello, ma è di, è magnifico, salti sulla stella del tetto e vai via verso la stella più lontana, laggiù, all'isola che non c'è, tutto è vero e meraviglioso. Peter, ma tu sei sicuro che ci sia? Ma certo, è proprio questo il bene, tutti sono convinti che siccome l'isola che non c'è,